cari amici nuova puntata di city report flash siamo tornati a vedere una situazione di quasi cinque sei anni fa eravamo venuti qui con milano trash questa è una chiesetta siamo a fianco allo e pensate che sia successo qualcosa che siano stati fatti dei lavori andiamo a vedere cosa troviamo insieme a hermes eccoci cominciamo come possiamo vedere è stata messa questa palizzata sfondata in più punti tutta la proprietà si sta comunque demolendo ed è un grande peccato perché era una un ricordo della zona un angolo interessante della zona di macconago che già presenta diversi spazi non utilizzati c'è anche nel campanile ancora sopra proseguiamo a fare il giro ok a 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 Qua viene qualcuno a usare Nel posto come toalette Hermes hai visto che comunque qua sul frontale c'è anche la croce, abbiamo un passaggio aperto? Esatto sì sì quindi non stiamo forzando nulla noi Sì sì Oggi giustamente ho le scarpe perfette Certo Ma chi buchi qui? Qualche sostegno o le talpe secondo te? Vai a sapere che c'è lì dentro Sì sì è pieno Sì sì Vai piano perché se no balla Qua ci siamo con l'attrezzatura mobile Sì sì Se inquadri di lì si alzi un po' Quello è il castello di Marconago Da qua non si vede però comunque qua dietro Sì sì I matrimoni eccetera E alle nostre spalle Siamo entrati dentro Esatto sì C'è tutto il cantiere dell'Oieo Ma proseguiamo che Adesso poi faremo scorrere delle immagini di quando eravamo entrati dentro l'ultima volta Diciamo che dentro non siamo entrati ma fuori più schiftezza di prima Sì sì Hai visto quella tettoia Tullio? Sta in piedi per miracolo Sì anche quella Sì è completamente imbarcata Vediamo anche quella Sì sì Ok andiamo a vedere Qui siamo a uno spiazzo Guardate il verde del Parco Agricolo Sud Milano Siamo a Macconago Buon proseguiamo Hermes andiamo a dare un'occhiata vai avanti andiamo a dare un'occhiata Questa è una city molto veloce Che facciamo nella settimana di Sanremo Così facciamo vedere qualcosa che Speriamo non duri quanto sta durando il festival Ormai siamo a sette anni abbondanti eh In effetti È incredibile Ma poi questa situazione qua non si capisce perché è stata lasciata così No parcheggio non credo perché chi si fida a lasciare la macchina qui guardate Nel frattempo bottiglie di birra per terra Le ciabatte Le ciabatte Ma chi è che si è cambiato le ciabatte qui? Francescano che è? Oh guarda qua Ciabattina rosa Ecco vi facciamo vedere da sotto Questa è la famosa tettoia Bottiglie di gin Hai trovato pure delle bottiglie di gin? Eh beh Chi non vorrebbe farsi un gin tonic qua sotto dai Vediamo a queste bottiglie di gin Ah però si trattano bene eh Gordon gin Eh vabbè Poi qua ci sono tutti i posteggi delle persone che vanno in ospedale E a fianco a noi ci sono delle cascine che sono abbandonate Fortunatamente per ora non sono occupate ma sono in condizioni pietose Andiamo a vederle dai Certo che oggi proprio veramente la giornata giusta per mettermi queste scarpe E voilà Finestre aperte Guardate quanto è grande Si dice il cartello Castello di Marconaghe Questa è la visione della chiesetta dal davanti Adesso diamo un'occhiata che ci sono un po' di finestre che sono aperte Vediamo un attimino cosa ci vediamo dentro Lasciamo sempre la chiesetta sulla sinistra Che ancora la croce anche E qui vedete Ci sono i muri Tutti scrostati così Ecco qui si riesce a vedere un po' l'interno E questo è l'interno Proprio anni cinquanta qui C'è anche il boiler Fa anche con la voce se per quello Beh proseguiamo ancora un pezzetto Vedete tutte conciate un po' così Sembra stranissimo trovare queste situazioni ti riportano a un mondo che non c'è più Guardate anche qua Qui da una parte è stato messo Tipo un fermino vedete Forse per non entrare troppa acqua Ai piani di sopra Chiaramente tutto aperto C'è qualche finestrella che sembra anche nuova Quelle sotto invece sono tutte più o meno conciate così E' tratto un'altra finestrella aperta? Sì c'è anche il cammino qua Addirittura Andiamo a vedere per curiosità cosa si intravede Da qui Voilà Sì è proprio una struttura di una volta Bel cammino in effetti Qua fra l'altro troviamo anche un pacchetto di sigarette Quindi qualcuno entra di qua Magari scavalcando vedo che dal retro c'è una finestra questa qui che troviamo qua C'è una finestra secondo me qualcuno potrebbe entrare E questo è quello che troviamo fuori dalla famosa chiesetta A fianco allo Ieo a Maconago Questo è il castello Così lo vedete meglio perché L'avete visto dall'interno della chiesetta con la muraglia cinese Ok E voilà E continuiamo Tolcinasco Sul fondo vediamo il castello Questa è la cascina che è murata in più parti ma Comunque qualcuno riesce ad entrare lo stesso dal retro E anche qui chissà cosa ci riserverà il futuro Speculazioni edilizie Molto probabile Visto che per adesso il tutto sta andando a pezzi Abbiamo fatto il giro E queste sono altre cascine sempre a fianco allo Ieo Ricordo che siamo a Maconago Un quartiere rurale insomma la Milano dei contrasti no? Dove case che costano milioni al metro quadro Dove molte famiglie non possono permettersi neanche di poterle affittare E poi troviamo dei cimeli della storia di Milano Molto spesso di proprietà degli enti pubblici dei comuni Abbandonati così senza nessuna riqualificazione Capaci solo di creare degrado E gli immobili stessi di ammalorarsi per cadere giù E quando cadranno giù chissà Magari vedremo qualche torre in giro Per oggi è tutto andiamo avanti E anche qui un altro angolo di Maconago A fianco al castello Che veramente non sembra di essere a Milano Troviamo una roulotte La capanna E il famoso laghetto Lo prendiamo da qua Voilà L'oasi verde E con questa vi salutiamo Un saluto a tutti da City Report Febbraio 2024 Esatto Andiamo avanti E per questo posto speriamo in bene Potrebbero anche farcela, dai City Report 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 City Report